quindi riprendiamo questo questo esercizio mettendo un minimo in sicurezza siamo così i dati del controller aggiungendo qualche minimo controllo di sanità in certo senso qui noi abbiamo prima letto il nome dell'esame e ci accontentiamo del fatto che il nome dell'esame esista che l'utente abbia scritto qualcosa magari più avanti uno dovrebbe dire no ma guarda che il nome dell'esame deve essere uno di quelli che è nel carico didattico ma a quel punto ci servirà un database nel cui ci sono i corsi in cui c'è il carico didattico e ci arriveremo ovviamente non devo scrivere il nome dell'esame ma lo scelgo dell'elenco dei miei ma quello ci arriveremo poi devo leggere il voto che deve essere un intero compreso tra 18 e 30 per ora il 30 lode non lo consideriamo per il momento eh oppure potremmo decidere considerarlo adesso eh ma per ora non ce l'avevamo pensato quindi lasciamolo ancora non detto ehm e quindi sarà ci serve un numero intero ops perdono ho messo la liga vuota e ne posso sbagliare eh qua ci serve un numero intero numero intero che dobbiamo stare dalla stringa ehm ok che dobbiamo stare dalla stringa e eh il parsint al al diciamo così il rischio che la stringa che sto persificando non sia ehm non contenga un numero intero in questo caso genera un'eccezione di tipo number format exception ok allora a questo punto tutto questo dovrà essere incluso in un try catch vai porto fuori la dichiarazione della variabile poi faccio un try su questo che c'è di number format exception number format exception eh e nel caso in cui si verifichi il number format exception eh dovrò dire all'utente se c'è un errore cioè il voto deve essere numerico e anche qua posso fare un return un return eh che eh di fatto interrompe l'esecuzione del live and handler quindi quando io eh ho eh cerco di leggere questa stringa convertito in intero se la conversione avviene bene proseguo e avrò salvato dentro voto int il voto altrimenti c'è un'eccezione è preferibile lavorare in questo modo piuttosto che qualcuno potrebbe pensare di controllare questa stringa prima ah ma questa stringa deve essere fatta solo di caratteri dallo 0 al 9 deve essere solo di due cifre u eccetera eccetera fare una serie di controlli preventivi che si possono fare ma in realtà sono gli stessi controlli che fa anche la parsint quindi è inutile farli due volte con il rischio magari di dimenticarci un pezzo nel senso che se qualcuno eh scrive spazio 18 quello continua a essere un 18 valido chiaramente con lo spazio viene ignorato nel momento in cui lo converto in numero ma se io vado a farmi i miei controlli carattere per carattere che siano tutti eh cifre eh corrispondenti ai numeri decimali ehm considererei non valido quel valore no? quindi c'è sempre il rischio di falsi positivi o falsi negativi se uno si fa i propri controlli se ci sono già delle funzioni di libreria che di loro no? di loro natura fanno l'operazione di falsificazione quindi da stringa a oggetto eh tanto vale eh usare direttamente quelle poi in realtà il fatto di avere un numero intero non è sufficiente perché devo controllare a questo punto che questo voto intero eh sia effettivamente ehm compreso tra 0 tra 18 e 30 quindi se fosse minore di 18 oppure il voto int fosse maggiore di 30 sappiamo che è un numero intero ma se è esterno l'intervallo tra 18 e 30 anche qua devo interrompere l'esecuzione del dell'event ender eh il voto a questo punto è numerico ma deve essere compreso tra 18 e 30 e eh e quindi in questo caso il nostro bottone di insert prima di procedere a inserire ehm prima di procedere a inserire il dato fa una serie di controlli in più Michele mi chiede ma perché sei così pignolo e mi metti number format exception anziché mettere genericamente exception qua così me le cattura tutte eh perché in realtà questa number format exception me la aspetto e so come gestirla ma se per caso mi arrivasse un'altra eccezione qui ho una riga sola quindi non è che ci possono succedere molte cose però se avessi un try cache che contiene un blocco di codice e dentro quel blocco di codice si scatena un'eccezione diversa da quella che io pensavo di gestire non voglio gestirla non voglio catturarla cioè supponiamo che che ne so la stringa assurdo che la stringa fosse troppo lunga e quindi mi dà un'eccezione perché una stringa più lunga di milioni di caratteri non è valida sto inventando non c'è nulla di vero allora potrebbe esserci generarsi qua un'eccezione del tipo stringa troppo lunga per assurdo non esiste ma dovrei fare l'esempio allora se io catturo number format exception allora quell'eccezione stringa troppo lunga non viene catturata da me e compare sulla console e blocca il programma e che è quello che voglio perché vuol dire che ho evidenziato una condizione di errore che non sto gestendo perché non ci avevo pensato se invece mettessi qua exception nel caso di questa ipotetica assurda stringa troppo lunga mi direbbe il voto deve essere numerico e il programma continuerebbe come nulla fosse e io dico ma perché mi impazzisce il programma perché mi dà un messaggio di errore che in realtà è successo una cosa completamente diversa e questo messaggio di errore non è pertinente messaggio di errore tipo errore generico nel portale o cose di questo genere sono errori che anziché darti informazione su che cosa è successo dicono vabbè qualcosa è andato storto non lo so fa lo stesso arrangiati ecco invece noi dobbiamo essere un pochino più chirurgici io so questo crash non va a catturare una condizione imprevista va a catturare una condizione anomala ma prevista so che può capitare e so anche cosa fare quando capita allora catturo l'eccezione ma catturare l'eccezione tanto per catturarla e non sapere come gestirla è meglio non catturarla perché almeno se si verifica questa viene gestita dai livelli superiori eventualmente da chi ha chiamato questo metodo o viene stampata a console e quindi chi sviluppa il programma se ne accorge ingoiare eccezioni è una cosa brutta da fare nel senso che nel senso di fare un crash di un'eccezione che non sai gestire in quel momento semplicemente la nascondi perché poi ti impedisce di fare debugging lo vedremo questo qua il problema si altera fuori molto di più quando cominceremo a interagire col database in cui ogni operazione di input output comprese quella di interazione col database genera e può potenzialmente generare eccezioni e allora alla fine è pesante mettere tutti questi tre catch ci verrebbe voglia di prendere le scorciatoie e ci accorgeremo che invece non ci conviene perché altrimenti la volta che la query è scritta male ti dà un errore sbagliato e tu ci perdi un'ora a cercare di baggare la cosa sbagliata essenzialmente perché hai semplificato la gestione dell'eccezione questo lo dico perché ho visto gente perdersi l'esame perché sarò un'ora dietro un errore che in realtà era semplicemente uno spazio nella query ma per come l'aveva gestito quella eccezione non è stata vista per questo mi sono permesso di fare il micro predicozzo ecco perché più avanti sarà più rilevante che non adesso qua non cambierebbe nulla perché non possiamo immaginarci altra eccezione che non sia questa ok l'ultima parte dobbiamo fare lo stesso giochino anche sulle date quindi questa data qua lo spezziamo e abbiamo un try catch di questa data uguale questo valore dove l'eccezione da catturare qua è l'eccezione che parse potrebbe generare che eccola qua date time parse exception vediamo se ci sta tutto su una riga date time parse exception e anche qua di sicuro non andiamo avanti ma dovremmo dire qualcosa del tipo la data non è nel formato corretto e poi risolviamo un return quindi a questo punto possiamo togliere questo to do se sono arrivato qua in teoria dovrebbe essere tutto a posto quindi proviamo un po' a rieseguire il programma ok io provo a schiaccare su inserisci nome esame vuoto nome esame abcd ok però il vuoto deve essere numerico ma già questo è un errore che è brutto il vuoto perché non ho messo nulla il messaggio non dovrebbe essere il vuoto deve essere numerico ma il vuoto è richiesto quindi dovrei prima controllare che non sia nullo allora se è nullo dico il vuoto è un campo obbligatorio va bene lo devo scrivere e se poi è obbligatorio e non numerico come RR è giusto che mi metta questo messaggio quando uno deve andarsi a controllare tutti i singoli errori ci perde le giornate perché i casi particolari sono veramente molti 20 la data anche qua 2021 21 03 15 inserisci e adesso poi la cosa brutta è che se inserisco più volte lo stesso esame me lo inserisci lo stesso e così via ma questo sono problemi del modello che non sta gestendo correttamente l'elenco degli esami non è più un problema dell'interfaccia un'altra cosa che uno potrebbe fare dopo che ha inserito un voto cancellare questi campi svuotare queste case di testo di nuovo è un'operazione così sono sicuro che l'utente non va inavvertitamente a prendere premere due volte insert inserendo la seconda volta un voto che non deve mettere quindi sono piccoli accorgimenti in cui se l'utente deve correggere un dato potenzialmente se l'utente deve correggere un dato potenzialmente errato tipo per esempio così io ho sbagliato la data faccio inserisci lui mi dice la data non è nel formato corretto ma io non gliela sto cancellando gliela lascio lì così la vede e la può correggere se invece l'inserimento è andato a buon fine potrebbe aver senso cancellare questi campi e quindi questo è di nuovo un lavoro che deve fare il controller sotto il aggiungo i risultati nella view aggiungo il testo sotto e poi vado a ripulire il txt esame clear no scusate no scusate get text punto clear non c'è un clear è clear non lo trovavo subito poi c'è un txt vuoto punto clear xt data punto clear risvuoto quelle caselle di test solo quando l'aggiornamento ha avuto successo e questi sono questo è il lavoro che deve fare il controller come vedete il controller ha questo metodo qua l'abbiamo da linea 38 a linea 77 quindi sono 40 righe di codice di cui la riga vera che fa il lavoro è questa è una beh una e mezza diciamo che consideriamo anche la creazione dell'oggetto voto il resto del lavoro è avere a che fare con l'utente umano che può commettere degli errori può inserire dei dati sbagliati può essere confuso quindi devo cancellare svuotare le caselle dove devo inserire i dati non svuotare quando lo correggio eccetera eccetera questo è il lavoro del controller e è giusto che sia separato dal lavoro del modello invece che è un lavoro di gestione della struttura dati ognuno ha problemi diversi il controller è più noioso ma è più semplice tutto sommato il modello invece è più protetto perché a quel punto gli arrivano i dati puliti e molto spesso faremo in modo che il modello riceva come parametro non string ma oggetti già direttamente così sono già che i dati sono già ben organizzati al loro interno non devo preoccuparmi di costruire l'oggetto perché c'è già è già stato pulito e quindi per questo add richiede un oggetto di tipo voto non richiede i parametri sciolti però ovviamente poi li si dovranno preoccupare di tutta la parte algoritmica l'efficienza l'integrità dei dati eccetera un'altra cosa che dobbiamo imparare a fare è vedere se ci sono i metodi più furbi ad esempio questa data per noi è una casella di testo ma esiste magari nella libreria un'altra sicurata qualche cosa perché se io avessi premuto l'altra ad esempio in questa libreria c'è già nella libreria di sim builder abbiamo già un elemento che si chiama date picker quindi al posto di questo elemento data potremmo mettere effettivamente questo date picker che se vado in preview effettivamente è già un elemento che mi genera un calendario quindi se riesco a trovare in questo caso nella libreria grafica un elemento che fa già il mio caso bene e quindi potrei semplificarmi la vita quindi vedete che qua dentro non ho più il text field txt data lo posso cancellare e mi rimane questo date picker qua gli darò un suo id che posso chiamare data data esame non mi piace che per data esame l'ho già usato nel codice vero? sì date picker esame mi ricordo che è un date picker e vado a vedere che cosa che cosa fa questo date picker è un oggetto di tipo a questo punto date picker che ha delle proprietà e una delle proprietà è dovrebbe essere il valore adesso qua non lo vedo ma lo possiamo vedere nella documentazione che è qua che la vediamo poi nel codice adesso facciamo questo aggiornamento voglio solo rispondere alla domanda di Matteo che mi dice dove si vede il nome di una specifica eccezione di solito nella documentazione ok quindi esempio parsint se ci vado sopra nella documentazione mi dice che è un metodo statico bla 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 che può generare questa eccezione nel caso della parse della data qui non me lo scriveva sopra ma sotto in fondo in fondo dice attenzione che può generare questa date time parse exception oppure faccio eseguire il programma la prima volta vedo che si pianta e vado a vedere qual è il nome dell'eccezione che viene generata ok ok proviamo ad aggiornare questo con questo date picker che è un po' più carino allora salviamo l'ho già salvato riapriamo l'fxml di là così siamo sicuri che anche zio eclipse si aggiorna e devo aggiornare il controller chiaramente perché ho modificato dei valori non lo sostituisco tutto ma sostituisco solamente questo pezzo qua alle variabili anziché txtdata che è questo punto lo lascio commentata così ce l'abbiamo ancora non è il nostro codice però ci metto questo picker esame date picker ovviamente deve essere importato e poi dovrò ancora aggiornare in fondo in fondo dove fa gli assert per controllare che gli elementi siano stati caricati correttamente quindi aggiungo questo e ovviamente tolgo quella data che in realtà darebbe errore e quindi a questo punto nel nel mio metodo and lo inserisci anziché fare questo lavoro con la data esame dovrò andare a vedere che cosa mi dà il picker esame come posso interrogarlo avrà un get get dunque vediamo se ha un get value di solito questi elementi qua hanno tutti un get value esatto get value che è di tipo local date che è già esattamente ciò che ci serve quindi la data local date data uguale get value il main non l'ho toccato quindi in questo caso ho un elemento che fa già lui il controllo delle date addirittura mi dà l'interfaccina per poterla selezionare e quindi non dovrei più avere date non valide ovviamente questo qua non è tx data clear anche questo lo commento ma sarà picker esame punto clear ce l'avrà anche lui vedo no non ce l'ha quindi set potrebbe essere io metterei un set value vediamo cosa fa a svuotarlo poi ovviamente qua bisogna andare a se uno vuole capire bene come funziona deve andare a vedere la documentazione di questo oggetto dei picker ovviamente dove se vado mi dà tutte la documentazione qua c'è solamente la parte iniziale se andiamo sul sito web dove c'è la documentazione java effects mi dice tutti i metodi che possono essere usati in questo caso c'è il get value che era quello che ci serviva che già mi restituisce un oggetto di tipo local date che era quello che volevamo quindi quindi vediamo un attimo di farlo ripartire questa volta dovrei partire con questo selettore di date e quindi se io metto un esame con nulla adesso c'è un controllo che non ho fatto che questa data deve essere vedete se null vuol dire che non è non è stata inserita quindi io posso fare 30 poi scelgo una data e me la formatta lui in modo corretto e ci pensa già lui se adesso lo rifaccio più lentamente scegliere una data vedete che qua me la mostro nel formato italiano però quando lo inserisco la converto automaticamente nel formato standard di ISO anno tattino mese tattino giorno perché viene direttamente estratto come oggetto l'unico problema che ho è che se l'utente non scrive nulla se io poi provassi a scrivere che il 30 scusate il 40 febbraio del 2030 non me la lascia neppure inserire questo oggetto calendario non mi fa neppure creare o inserire delle date non valide quindi questi controlli vengono fatti a monte già direttamente dall'elemento dell'interfaccia utente quando posso lo uso il controllo che mi manca è semplicemente che sia presente la data e quindi questa data qua la posso leggere se c'è è valida ma potrebbe non esserci e quindi devo controllare se data fosse null allora devo dire che la data è obbligatoria quindi farò il solito coppia di messaggi di questo genere la data è obbligatoria purtroppo siamo nel mondo dei casi particolari perché nel caso dell'esame basta una stringa vedere se esiste se non esiste nel caso del voto devo controllare che sia un intero e che sia anche nel range giusto e quindi uso parsinte e l'eccezione nel caso di una data che mi parsifico a mano avrò un'eccezione da gestire nel caso invece del date picker non avrò nessuna eccezione ma devo controllare se il dato è presente oppure no con un modo diverso quindi ogni ogni tipo di dato ogni tipo di elemento di controllo grafico ha il suo modo di comunicare col controller e non c'è una regola generale perché ad esempio il nome esame non sarà mai null non può in una text area non è mai null al massimo è stringa vuota ok quindi devo controllare se è stringa vuota oppure no mentre invece la data non può essere mai stringa vuota perché è un oggetto di tipo local date e potrebbe essere null e quindi devo fare attenzione ogni tipo di controllo avrà il suo modo per stare i dati per verificare i dati non è non è il mondo ideale ma purtroppo nel controller ci si sporca le mani ci si sporca le mani perché sono tanti casi particolari da gestire casi particolari dovuti all'utente casi particolari dovuti agli oggetti di libreria noi cerchiamo come regola generale di delegare il più possibile agli oggetti di libreria e agli oggetti di interfaccia grafica se ci troviamo qualcosa che è già fatto non andiamo a rifarcelo noi ecco quando riusciamo ok fatto questo abbiamo un castello nel quale il nostro libretto che non abbiamo modificato che non abbiamo modificato può essere in questo momento richiamato indifferentemente sia dal controller sia dal programma di test e questa è la condizione ideale perché se andiamo aggiungere gli altri metodi adesso spenderemo un po' di tempo per aggiungere alcuni in più possiamo farci il nostro sviluppo semplicemente in un programma di test dove i dati gli esami vengono già inseriti in automatico perché pensate che è noioso ogni volta dover inserire tutti i dati gli esami e ripartire da zero ogni volta per poter provare una funzione nuova allora è molto più comodo avere un programma di questo genere in cui provi le funzioni in batteria e vedi se il risultato viene corretto se è corretto allora ci vai ad agganciare l'interfaccia utente davanti e fai tutti i controllini carini del caso ma sai che la logica funziona già allora abbiamo proprio due menti diverse la mente che pensa alla logica all'algoritmo lo fa funzionare e poi la mente che pensa all'interfaccia e chiaramente considera problemi di tipo diverso Manuel mi fa notare che ho detto delle cose senza averle del tutto note cioè nel senso che ho detto che non è possibile inserire date sbagliate e lui mi dice invece no guarda che una inserisce è sbagliata può darsi allora vediamo un attimo di poter inserire una data sbagliata quindi diciamo che sia il 34 marzo 2021 faccio inserisci e infatti la converte in null allora a questo punto non c'è santo bisogna andare a capire bene che cosa fa quell'oggetto quindi bisogna andarsi a prendere java effects date picker documentazione ufficiale e che ci dice si non ho quella scatola ci dice il get value che cosa fa adesso vediamo se è scritto in un modo cerchiamo value the value property rappresenta la current selected local date e va bene una data iniziale può essere settata con un costruttore oppure con set value il valore di default è null ok qui non ci dice molto su che cosa succede quando la data è sbagliata in questo caso anche la documentazione non ci dà molta non ci dice non ci aiuta quindi in questo caso abbiamo scoperto un comportamento che non non ci aspettavamo vediamo se esiste una proprietà metadata converter self factory no speravo che ci fosse una proprietà tipo is valid per dire se è valida oppure no ma non la trovo quindi diciamo che il null abbiamo imparato che può corrispondere a una data mancante oppure una data errata al momento non sembra che sia facile distinguere tra i due casi quindi questo è il è il comportamento di questo oggetto qui c'è un signore che ha fatto come sempre milioni di tutorial esempi che ci sono in giro ma non ti dicono cosa fare quando il dato non è valido ok niente quindi abbiamo scoperto questo che non era neanche chiaro nella documentazione ufficiale e allora vuol dire la data è errata o mancante ce la caviamo con questo semplice errore sapendo che alla fonte se ci interessasse di leggere se ci interessasse separare due casi non riusciamo allora voi mi state dicendo possiamo mettere quel campo non editabile vediamo un attimo se mettendo quel campo non editabile non mi impedisca per caso di cambiare proprio la data anche direttamente dal calendario allora innanzitutto non editabile dovremmo mettere già subito il la testarea sotto mi ero dimenticato di farlo prima proviamo a mettere non editabile questo e andiamo anche solo in preview sembrerebbe lasciarmi quindi proviamoci quindi vorrete dire stiamo disabilitando il campo di testo che l'utente non può scrivere schifezze salviamo la scena non dovremmo modificare nulla nel controller semplicemente diciamo già di riguardare di clic di leggera scena vediamo un attimo se funziona in questo caso sì sì direi che funziona se io invece per cercarsi di scriverli qua dentro anche sui tasti così lo sentite anche voi ma non scrive nulla ok mi sembra una buona soluzione Alessandro se avevamo messo il controllo per il NAL come può aggiungerlo no non lo aggiunge sbagliato ma mi dava il messaggio di errore sbagliato mi diceva data mancante anziché data errata questo è il motivo per cui non mi piacera ok quindi questo è l'altro piccolo miglioramento come dire sono le buone prassi che si scoprono facendo ok torniamo a noi torniamo a noi poi andando a riprenderci l'elenco delle funzionalità di questo libretto per capire se non funziona funziona un controllo se lasciamo la data vuota fatemi capire scusate cerchiamo di chiudere questo questo maledetto day picker torniamo qua dice che se lascio la data vuota non mi controlla null ah scusami 21 no funziona se lascio la data vuota devo fare questo controllo ovviamente che non sia nulla ok chiudiamo allora torniamo al nostro ritmi allora noi avevamo inserito l'elenco di dieci oggetti voto va bene questo l'abbiamo fatto nel nostro stampare tutti i corsi di cui voto è pari a 25 che se vi ricordate qui torniamo a ragionare nel 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 modello nel libretto quindi torniamo a pensare ad algoritmi abbiamo deciso che non volevamo fare semplicemente un un metodo che restituisse tutti i 25 ma l'abbiamo generalizzato abbiamo abbiamo creato un metodo che mi ritorna un nuovo libretto o una lista di voti il cui punteggio è uguale al punteggio che abbiamo definito ok e ci piaceva di più la soluzione con il libretto perché a questo punto questo aveva tutti su questo libretto che abbiamo ottenuto abbiamo ancora tutti i vari metodi compreso per dire il two string per poter stampare solamente questi voti migliori di 25 ok poi gli altri punti avevamo fatto un ricerca corso che restituisce un oggetto voto dato un nome del corso oppure restituisce null se non lo trova e quindi eravamo arrivati a implementare abbiamo implementato il punto 3 punto 4 creare un nuovo oggetto voto e verificare se tale valutazione esiste già nel libretto cioè se esiste già uno stesso esame con lo stesso voto oppure creare un nuovo oggetto voto e verificare se esiste un conflitto con il libretto cioè uno stesso esame e un voto diverso qui sono due cose sono due situazioni anomale ma non volevo insomma sono comunque dei controlli non mi dice di inserire l'oggetto nel libretto mi dice guarda se tu hai un oggetto voto mi dici se per caso c'è già un voto identico a questo nel libretto oppure se c'è già un voto incoerente con questo cioè lo stesso corso ma un voto diverso quindi ci sono due tipi di ricerche diverse una è una duplicazione cioè un voto uguale al netto della data qui non mi dice di controllare la data però un voto è caratterizzato dall'esame e dal voto stesso oppure esame e voto diverso allora come possiamo fare a implementare questi due metodi possiamo metterli qua potrebbe essere un metodo li chiamiamo sicuramente da un boolean che ti dice esiste duplicato esiste duplicato per un certo voto voto B e poi un altro metodo che potrebbe essere di sviluppare un parallelo esiste conflitto per un certo voto B quindi nel caso del listo duplicato verifica se ne verifica se nel libretto c'è già un voto con lo stesso esame e lo stesso voto è la stessa votazione mentre nell'altro caso verifica ho dimenticato ho dimenticato di mettere la doppia e lo stesso rischio per avere il javadoc verifica se nel libretto c'è già un voto stesso esame ma votazione diversa allora beh questo è abbastanza semplice bisogna semplicemente andare a cercare se all'interno dell'elenco dei voti ce n'è uno che ha queste caratteristiche su voto B quindi avremo semplicemente un boolean trovato allora se di stuplicato inizialmente non l'ho trovato e for voto voto due punti this punto voti quindi iteriamo tutti gli elementi se per caso if abbiamo detto che voto punto nome get nome equals v punto get nome e il voto è uguale quindi voto punto get voto uguale a v punto get voto allora l'ho trovato trovato uguale true back interrompiamo l'iterazione e ritorniamo trovato ma potrei fare anche un return direttamente dentro il ciclo non cambia molto quindi questa è una banale ricerca all'interno di una lista alla ricerca di una condizione di questo genere il nome dell'esame è lo stesso e il voto è uguale nell'altro caso l'esiste un voto con lo stesso esame una votazione diversa basterà modificare questo uguale in un diverso quindi questi due metodi sono uguali sono evidentemente una fotocopia dell'altro l'unica differenza è il controllo che faccio sul voto in un caso è uguale nell'altro è diverso vediamo se diciamo faremo stare insieme contemporaneamente posso stare a vota così diciamo farvi vedere entrambi quindi non c'è nulla nulla di particolare mi dispiace un pochino dover fare questa iterazione cercare tutti i voti per vedere se ce n'è uno che ha lo stesso nome eccetera eccetera visto che abbiamo già imparato la settimana scorsa le mappe forse potrebbe essere utile che il libretto fosse rappresentato non come un array list ma come una mappa a questo punto perché se io avessi una mappa potrei direttamente cercare usare come chiave il nome e come valore ovviamente l'oggetto l'oggetto vuoto e allora a questo punto evito questa iterazione questa ricerca perché se io avessi tanti voti ogni volta che devo fare la ricerca lineare devo cercare controllare tutti ma visto che in entrambi i casi la condizione di ricerca principale è quella che il nome sia uguale e se io avessi una mappa in cui questi voti sono organizzati per nome sarebbe ideale tra l'altro avere una mappa non mi impedisce di avere un array list posso pensare di avere entrambe le strutture dati e le gestisco in parallelo così quando ho bisogno di accedere a un esame conoscendo il nome in un attimo solo uso la mappa e trovo l'elemento quando ho bisogno invece di avere l'elenco completo vabbè allora userò la vista dell'array list perché tra l'altro l'array list ricordiamoci che ci mantiene un certo ordinamento degli elementi mentre invece la mappa non mantiene l'ordine perché rimescola sulla base del valore della funzione di hash quindi questo va benissimo se abbiamo pochi voti va benissimo così se devo iterare su 20 elementi stiamo parlando di microsecondi e non ce ne accorgiamo però se questo approccio qua lo volessimo applicare a un un caso più ampio in cui l'elenco non è di 20 voti ma forse di 200.000 pensare ogni volta che devo controllare se scorrermi una lista di 200.000 elementi forse ha una complessità un po' troppo elevata allora se volessimo far questo cosa potremmo fare potremmo creare una nuova rappresentazione in parallelo a questa in cui oltre ad avere una lista di voti che questa è continua a essere diciamo così la fonte verde del libretto in parallelo mi costruisco una mappa che mappa una stringa che è il nome del voto sull'oggetto voto stesso ok chiamiamola voti map più avanti quando faremo il database impareremo che questo è un pattern che si usa abbastanza e che prende il nome di identity map c'è una mappa che conserva l'identità degli oggetti ma lo metto solo qua come commento ne parleremo tra qualche settimana e quindi posso attenzione importare la mappa giusta non questa cosetta qua ma semplicemente java.util.map e quindi decidono ogni volta che inserisco un elemento di inserirlo sia nella lista dove rimangono inseriti in ordine dell'inserimento sia nella mappa dove sono facilmente accessibili attraverso il nome del voto ok questa qua mappa nome esame in oggetto voto voi mi direte ma perché devo mappare il nome dell'esame sull'oggetto voto che l'oggetto contiene di nuovo il nome dell'esame ma perché quell'oggetto ce l'ho già fatto non mi servirebbe che un altro oggetto che contenesse solo voto e data semplicemente l'oggetto ce l'ho è l'oggetto voto è lo stesso oggetto che ho messo nella lista ma ho un modo in più per accedere allo stesso oggetto attenzione che però se ho deciso di creare questa mappa la devo sempre tenere aggiornata quindi quando creo un libretto vuoto dovrò inizializzare questa mappa è una nuova hash map anche qua devo importarla e quando aggiungo un voto alla lista dovrò anche aggiungere put al voto v.getnome v quindi l'oggetto v che mi è stato passato ne estraggo il nome lo uso come chiave e il valore dell'oggetto v lo uso come valore questo ci rende ancora più importante le operazioni che abbiamo fatto la volta scorsa ricordate che la volta scorsa avevamo ragionato sul fatto di dire quando io creo un libretto con il voto uguale a un certo punteggio lo ricreo il libretto chiamando il metodo add e poi ci siamo detti ma perché non aggiungiamo direttamente all'array list e lì avevamo detto voi non mi avete creduto ma sì ma se domani volessimo cambiare l'array list è meglio passare dal metodo add che sa esattamente cosa fare ecco qua abbiamo proprio l'esempio in cui il metodo add non aggiunge solo l'array list ma fa anche altre operazioni quindi è meglio che questo l'array list non lo tocchiamo sia solamente il metodo add oppure il costruttore insomma in alcuni punti selezionati in cui vado a modificare l'array list voti vado anche modificare coerentemente il voti map e in tutto il resto del codice è meglio non toccarlo ok ok cosa ci manca ancora allora ovviamente per avere una per creare una mappa è necessario che l'oggetto chiave sia un oggetto hashable in questo caso lo è perché è una stringa quindi la stringa ovviamente ha definito i suoi metodi hashcode equals correttamente se volessimo usare voto come chiave invece dovremmo aggiungere hashcode equals anche l'oggetto voto ma in questo caso non ci serve allora se è così noi potremmo semplicemente il nostro metodo esiste duplicato si semplifica enormemente perché non devo più fare il ciclo for eccetera fatemelo commentare su continuerebbe a funzionare ovviamente con la lista ma noi potremmo direttamente trovare il voto trovato uguale this.votimap .get di v.getnome cioè il nome del voto che mi hanno passato a questo punto questo get può trovare l'elemento oppure ritorna null se la mappa non contiene quella chiave non genera eccezione ma ritorna null allora in questo caso se ritorna null vuol dire che l'elemento non c'è e non è un errore semplicemente lui mi chiede esiste duplicato no perché non c'è proprio quel corso quindi possiamo metterlo come caso particolare trovato uguale null ritorna falso non c'è duplicato se invece l'elemento c'è vado a controllare i voti quindi if a questo punto trovato c'è un corso con lo stesso nome vado a vedere il voto get voto uguale trovato scusate v.getvoto allora se quello che ho trovato nel libretto ha lo stesso voto di quello che mi han passato come parametro allora effettivamente c'è un duplicato altrimenti torna falso vabbè se tante graffe servono quindi vabbè c'è forse una riga in meno ma soprattutto dal punto di vista dell'efficienza la ricerca in una mappa ha un tempo di esecuzione costante invece la ricerca in una vista ha un tempo di esecuzione lineare e la stessa cosa succederà ovviamente sul nostro metodo gemello di sotto dove anche qua posso commentare questa parte poco efficiente e rifarla è l'unica differenza anche qua ovviamente questo è diverso ma già che ci siamo possiamo a questo punto anche andare a modificare un altro metodo che avevamo fatto la volta scorsa ricerca corso dove anche qua avevamo la ricerca se il nome era uguale a liquors a questo punto abbiamo la mappa e e possiamo anche modificare questo rispondo Manuel il confronto del voto si fa con l'uguale non con liquors perché voto è un int è un intero non è un oggetto getVoto restituisce un int vedete qua e quindi sono non è un è un valore primitivo e quindi si confronta con l'uguale non con liquors purtroppo Java ha questa simmetria per cui gli oggetti primitivi tipo essenzialmente i numeri booleani non sono oggetti e quindi non hanno equals ma si confrontano direttamente con l'uguale qui non stiamo confrontando l'oggetto voto ma il valore numerico esatto purtroppo lo chiamate nello stesso modo e continuo a pentirmene avrei voluto chiamare punti anziché voto perché purtroppo c'è confusione tra il nome dell'oggetto voto e il nome della proprietà voto dell'oggetto voto ok noi dicevo anche la ricerca corso lo possiamo tranquillamente dire c'è o non c'è se c'è questo qua diventa semplicemente se leggo ricerca un voto del corso in cui ho specificato il nome se il corso non esiste restricional scusatemi ma questo è semplicemente il chiesa della mappa return this.votimap .get non è corso esattamente ciò che fa la mappa e quindi sarà sempre così man mano che aggiungiamo funzionalità ci accorgiamo che forse occorre potenziare un pochino la struttura dati e viceversa e poi con una struttura dati più potente posso implementare meglio certi metodi e alla fine se voi cancellate i commenti che abbiamo lasciato il codice più furbo è anche quello più breve alla fine salta fuori che ci sono anche meno istruzioni meno codice sarà sicuramente anche più efficiente una cosa curiosa che appunto a pensarlo meglio alla fine si scrive meno codice quindi tante volte uno scrive tanto codice per poi accorgersi che in realtà se l'avesse pensato in un modo diverso avrebbe scritto meno codice e avrebbe un risultato migliore allora vediamo se questa cosa funziona perché a parole vi ho convinto ma poi bisogna vedere aggiungiamo il nostro test libretto allora vediamo innanzitutto se continua a funzionare la ricerca corso che abbiamo modificato qui faccio il run di test libretto non mi serve l'interfaccia grafica ok esame analisi 1 superato me lo dice se io cercassi invece una ricerca corso che non esiste che ne so un'analisi 3 per dire che non esiste e facessi facessi un run mi direbbe anal vabbè li so qua ovviamente è un programma di test è un programma di test e quindi va bene che mi stampi in anal altrimenti dovrebbe stamparmi guarda che questo esame non esiste Alessandro mi dice ma dobbiamo modificare anche il two string secondo me no nel senso che il two string deve stampare in modo ordinato i vari elementi li stampa prendendoli dall'array list noi non stiamo buttando via l'array list stiamo gestendo in parole le due rappresentazioni degli stessi dati io preferisco nel two string navigare sull'array list tanto comunque li deve vedere tutti li deve costruire tutti navigare sull'array list che mi mantiene l'ordine che voglio io per ora è l'ordine di inserimento se volessi fare un ordinamento lo potrò fare se invece facessi questa iterazione sulla mappa avrei gli stessi elementi ma in ordine disordinato allora su mappa.values li avrei disordinati allora preferisco mantenermi in ordinato dal punto di vista della complessità non cambia nulla perché in entrambi i casi devo comunque guardarli tutti e allora tanto vale farlo nel modo più semplice se invece ho dei casi in cui posso evitare di guardarli tutti e andare mirato solamente a quello che mi serve allora lo faccio ma quando li devo guardare tutti comunque qualunque struttura dati usi li devo guardare tutti quindi avrò una complessità a fare n volte l'operazione ok è conveniente sostituire all'array list un set non tanto io direi di no per due motivi uno è di nuovo quello dell'ordinamento cioè un set non è ordinato e quindi se volessi stampare che non so metterli in ordine di data ad esempio o in ordine di voto cosa che mi sembra che sia richiesta da uno dei punti successivi dell'esercizio non lo posso fare non posso imporre un'ordinamento allora a quel punto dovrei prendere il set travasarlo in una lista e ordinare la lista e allora sono da capo l'altro motivo è che ho qualche difficoltà a definire quella che è la funzione di uguaglianza tra due oggetti di tipo voto perché in un set ovviamente devo definire la scuola dell'equals allora quando è che due voti sono equals quando sono uguali solo il nome del corso il nome e il voto il nome e la data non sono oggetti che si prestano tanto secondo me ad essere confrontati tra di loro in una nozione di uguale e diverso quindi si può ovviamente fare ma mi sembra un po' innaturale definire un concetto di uguaglianza tra voti che dipende dai casi come abbiamo visto in queste due funzioni che abbiamo implementato in un caso era uguale il nome e uguale il voto e allora era un significato perché è un doppione e l'altro invece il voto era diverso allora era un conflitto allora quali le due hanno un'ozione di uguaglianza migliore dipende dai casi quindi in questo caso non lo vedrei se ho bisogno di trattarli come infatti qua la mappa che è poi un'estensione di un set la chiave l'ho data al nome ok ok noi dobbiamo ancora aggiungere al test un paio di metodi che chiamino il doppioni e quindi creo un altro voto diciamo così vediamo un altro un doppione di chimica dunque la parente ritonda è questo qua chiamiamola vuoto chimica doppio e un altro che chiamiamo chimica conflitto e qui cambiamo semplicemente il voto il primo è identico è un oggetto identico quello che avevamo già creato in precedenza il secondo invece è diverso e quindi allora qua scriverò system out in line allora vado a vedere se chimica non si chiama chimica questo è un allora chiamano così voto vado a interrogare il libretto uguale libretto punto dove è ricerca ricerca chimica quindi cerco un voto faccio finti di non conoscere qualsiasi mi ricerco il voto di chimica e poi mi chiedo se chimica doppione di chimica doppio poi scrivo punto interrogativo la risposta è a questo punto chiamo libretto punto esiste duplicato chimica doppio mi farò un run se vedesse ho scritto giusto allora mi dirò esami di chimica superato del 25 con 19 è doppione di esami di chimica superato del 25 troppo sì allora faccio tutti i vari casi faccio con chimica conflitto e poi faccio altri due casi in cui non chiamo esiste duplicato ma esiste conflitto ho testato un po' di casi diversi e la console mi dice esami di chimica superato del 25 con 25 è un doppione di esami di chimica superato del 25 sì è un quello superato con 25 è un doppione di quello superato con 29 no lo superato con 25 è un doppione chimica superato del 25 no qui non è un doppione e invece è un conflitto scusate non è un doppione qua ma era conflitto ci vuole un po' ecco qua quindi 25 con 25 è un doppione sì 25 con 29 è un doppione no 25 con 25 è un conflitto no 25 con 29 è un conflitto sì ok quindi abbiamo fatto una prima verifica che questi metodi funzionino mi stavo chiedendo mentre facevo questi test cosa succede se io ricerco invece un corso che non c'era nel libretto quindi di cui non abbia fatto l'add cosa succede forse non abbiamo gestito il caso del null no abbiamo visto qua esiste duplicato è trovato uguale null ah no perché no l'abbia gestito mi ho dimenticato che avevamo già gestito il caso in cui il corso non esistesse Alessandro mi chiede se conviene convertire anche lista voti uguali e voti uguali allora lista voti uguali io lo butterei via quasi quasi ma vabbè perché perché usa solamente la red list voti uguali direi che no non ci farei nulla perché in ogni caso sto ricostruendo un nuovo libretto e ci sto mettendo dentro degli elementi quindi devo comunque andarle a guardare tutti uno per uno quindi mi conviene andare a scandire la lista li vedo tutti e quelli che voglio li aggiungo nel nuovo libretto e quelli che aggiungerò nel nuovo libretto ovviamente il metodo add li aggiungerà quindi tolgo proprio questo definitivamente li aggiungerà sia nella lista che nella mappa ma questo è il metodo add che è il libretto che sto costruendo però per decidere se inserirli o no li devo andare a valutare uno per uno a meno che non li abbia magari ordinati per voto allora a questo punto posso andare più solettivamente a prendere solamente quel range di elementi però per ora visto che nella lista non sono ordinati l'unico modo di trovare tutti i 25 è di andarsi a guardare tutti i voti quindi no questo non questa non non ritengo l'esistenza della mappa non ne cambia nulla quest'altro se vogliamo possiamo lasciarlo perché ci dà i dati sotto forma di lista ma a questo punto io preferirei avere un metodo che mi restituisce la lista per un libretto generico e non solamente per i voti uguali visto che comunque estrarre i voti uguali mi dà un nuovo libretto su cui poi posso estrarre la lista quindi questo qua già mi piaceva poco quando l'abbiamo fatto man mano che andiamo avanti mi piace sempre meno come caso particolare a questo punto veramente farei un metodo dammi la lista dei voti sotto forma di lista non sotto forma di libretto a questo punto butto via l'oggetto libretto solamente la lista di oggetti nuda e la posso la implemento come metodo nuovo e quindi lo posso applicare a qualunque libretto modificato in qualunque modo ok direi che per oggi un pochino siamo riusciti ad andare avanti ha visto un po' di cose il metodo il punto 6 lo accenno solo a parole ci dice modificare il metodo add in modo da evitare di inserire valutazioni duplicate o in conflitto ecco questo è il motivo per cui abbiamo fatto attenzione alla funzione di conflitto e funzione di duplicati perché immaginate di doverle di doverle chiamare ogni volta che chiamo add a questo punto qua dovrò mettere intorno ad add se questo voto non è in conflitto e questo voto non è duplicato allora puoi fare l'add ma ovviamente devo fare queste due chiamate ogni volta che faccio l'add immaginate se ad ogni add dovessi scandidare l'intera lista il programma si ralenterebbe parecchio e per quello abbiamo fatto attenzione che i metodi di duplicato di conflitto fossero i più efficienti possibili ma su questo chiaramente torniamo poi nelle volte precedenti nelle volte successive per ora vi lascio perché è di nuovo a tardi e ci sentiamo nel laboratorio di domani e ci vedremo noi lunedì prossimo mercoledì faremo l'esercizio di indovina il numero fatto con MWC così un esercizio in più su come impostare il modello nei nostri programmi la lezione la carico tra dieci minuti arrivederci a tutti grazie